Con il destro è proprio Vezioni, è il sicuro più interessato, va anche in gol con il Genoa, Vezioni tutto pronto parte, Vezioni in centrale lo tiene all'inzacchi, mi schietto in bocca, mi dice che può bastare in questo primo tempo l'arbitro, è 2 a 1 l'Inter sul Sassuolo, la rivolta della formazione allenata da Armando Madonna.